Cosa ho appena visto? Che dovevo fare in questo video? Qui c'è una luce accesa Stanno spiando Ad retro satana Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video su GTA 5 Siamo di nuovo in single player Di nuovo con il nostro Franklin Che è ormai praticamente la nostra cavia de mod Come appunto leggetto dal titolo Vi faccio vedere oggi due nuove mod E in più andremo a modificare la hot knife La prima mod che voglio mostrarvi Si attiva con il tastino 0 E abbiamo crocifisso Franklin No semplicemente abbiamo attivato il noclip Che è in pratica il coso che ci fa volare Quindi con questa mod che vi lascio ovviamente Il link qua sotto in descrizione Possiamo andarcene in giro E possiamo andare anche sotto GTA Ma non ci voglio stare più di tanto Perché ho paura che tipo mi bagnino dal mondo Questa mod sostanzialmente ci consente Di volare in giro per lo santo Se raggiungere i posti inimmaginabili Di questo videogioco Togliamo il noclip Non in questa maniera Magari prima appoggetevi al suolo E poi togliete il noclip Ok quindi spawniamo subito la hot knife 5000 dollari di spese mediche Che cazzo mi hanno fatto? Un trapianto di culo cazzo Allora andiamo a spawnare La hot knife Prima la devo trovare in questa lista infinita di vetture Veramente Ed eccoci qui con la nostra hot knife spawnata 742 anni per trovare sta macchina Questa è fighissima sta cazzo di macchina Porca troia che figa Avete capito il mio stile? Bravi ragazzi Allora non appena saliamo in macchina Appare sulla minimappa Il tachimetro Ed è una figata Si può Poi intanto radio Te ne vai un attimo in affanculo Grazie Il tachimetro può essere sia in Che K P H Poi premendo questo tasto Si possono anche switchare in migliorari Noi lo lasceremo in migliorari Come vedete la velocità aumenta È abbastanza affidabile Rispetto al tachimetro della macchina Quindi adesso Facciamo Facciamo La velocità da 0 a 100 Se vediamo se poi con le modifiche funziona Quindi Mettiamo Alla pista l'atterraggio E vediamo quanto riusciamo a totalizzare Da 0 a 100 In secondi Così poi facciamo il test Dopo che ho modificato la macchina Vediamo se queste modifiche Effettivamente Sono servite a qualcosa Quindi Mettiamoci qui pronti Sulla linea di partenza Prendiamo il cronometro Oh e via Ok Vediamo quanto ci stiamo Vediamo quanto ci stiamo Per arrivare a 100 Oh Vai così macchinina Vai Oddio Quello per forza adesso deve cadere Vai così Vai così Veramente un sacco Sta macchina per arrivare a 100 Minchia che è lenta Porca troia che è lenta Raga Madonna È veramente un chiodo Sono passati 20 secondi Mi sa tanto che non ce la facciamo Perché Esplodiamo prima Non ce la fa Questa macchina Allora Prendiamo per buono Che ragazzi Non è riuscita nemmeno A concludere la pista Dell'aeroporto Finendo a 100 Quindi Prendiamo per buono a questa Quindi adesso ci Trasferiamo allo Lo Santos Custom Modifichiamo sta macchina E vediamo se Riusciamo ad arrivare alla fine Della pista Almeno Raggiungendo i 100 Migliorari Ed ecco c'è l'ingresso Del nostro Lo Santos Custom Come sempre Buongiorno Meccanico Mi sentate per favore Perché dovrei un attimino Modificare Dio L'ho distrutta di davanti Questa macchina Mamma mia Ripariamo il veicolo Allora Armature Al massimo Preni Al massimo Carrozzeria Parafango da moto Non sia mai Carrozzeria standard Motori Ovviamente Potenziamo al massimo Cofani Vediamo Oh Cristo Dio ragazzi Oh Cristo Dio Ovviamente questo Cazzo Claxo non me ne fotte niente Allora Fari Luce allo xeno Mamma mia ragazzi Che figata Schema neon Tutti i cazzo di lati Colore neon Beh colore neon Lo devo mettere dopo Che modifico La verniciatura La targa La voglio sempre nera Verniciatura Colore principale Cromata No cromata è una mer Ma il cromata proprio Mi fa cagare il cazzo Oh ragazzi Fighissimo marrone chiaro Marrone sabbioso Fighissimo questi colori Però voglio fare Dei colori un attimino Un po' più spinti Quindi facciamola Nera Vediamo di fare una figata Ragazzi Facciamola Nera metallizzata Come secondo colore Facciamo rossa metallizzata Vediamo come Che cosa ne esce ragazzi Rosso torino C'è il colore Rosso torino Incredibile Fighissimo Fighissimo Mi piace un sacco Mi piace un sacco Quindi come Adesso Luci Kit neon Colore neon Mettiamo ovviamente I colori rossi Ok Sta avvenendo una figata Targhia Lasciamo qua Le verniciature abbiamo fatto Sospen Oh Qui posso modificare le sospensioni Guardate come si abbassa la macchina Noi siamo dei low rider Vogliamo vengere col culo a terra Turbo Ovviamente turbo personizzato Ruote Accessori ruote Mettiamo fumo rosso istantaneo Andiamo a mettere ovviamente Anche le gomme Antiproiettile Colore Tipi di ruote Allora Siccome questa È un'auto abbastanza antica Mettiamo Muscle E mettiamo Delle ruote Fighe Vediamo Queste ruote sono veramente Veramente fighe Anche perché si vede la pinza dei freni Rossa In tinta con la macchina Che è figata Che è figata Allora Colore e cerchioni Mettiamoli Ovviamente Rosso Quanto sta avvenendo figa Certo Tamarra merda Però è figa Finestrini Finestrini ovviamente Tutti oscurati Abbiamo finito Abbiamo finito ragazzi Porco che figata Questa macchina ragazzi Che figata Adesso mettiamo il puntino All'aeroporto Ci trasferiamo all'aeroporto E proviamo La velocità adesso Di questa macchina Ed eccoci qui all'aeroporto Ragazzi Mamma mia Veramente È troppo figa Sta macchina Contura Anzi guardiamo gli interni Intanto Oh Che fighi ragazzi Siamo pronti Vediamo se la velocità cambia Guardate ovviamente Sempre in basso a sinistra Del tachimetro Prima non siamo nemmeno riusciti A finire la pista 3 2 1 Via ragazzi Via ragazzi Vediamo Vediamo Eh sì Guardate già Quanti cazzo siamo 60 70 70 migliorari 80 80 80 90 Quasi Quando cambia marcia Prende un sacco di velocità 95 95 98 99 100 100 ragazzi Ci siamo Mamma mia Siamo riusciti a concludere sto giro la pista Le prestazioni sono notevolmente aumentate Che figata ragazzi Che fottuta Figata questa fottuta macchina Quindi ragazzi Direi che per questo video era tutto Vi ho fatto vedere due mod Che ho trovato ovviamente qua sotto in descrizione Abbiamo modificato l'out knife Mi raccomando lasciate qua sotto in descrizione Un altro nome di macchina Che volete che io andassi a modificare Ovviamente Allo Santos Custom E poi testare le prestazioni in questo modo Facendo il test da 0 a 100 Col cronometro È una cosa molto interessante E molto figa secondo me da fare Quindi fatemi sapere con un bel mi piace Scrivete qua sotto il nome della macchina E ciao ciao